Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monospera 07 Siamo qui per esprimere il mio punto di vista sulla situazione di Dybala Per chi non lo sapesse ragazzi è un video difesa perché Dybala è il mio idolo Quindi sì, io sono cresciuto Dybala è alla Juve da quando io ho 12 anni Anzi, in realtà l'hanno acquistato quando io ne avevo 11 Ora ne ho 18, quindi fatevi due domande Perché sono cresciuto con la Juve di Dybala Eccetto lo scorso anno dove purtroppo Dybala è mancato Ma io sono cresciuto con Dybala che gioca praticamente tutte le partite E ne decide tante Al contrario di ciò che si dice in giro Dybala ragazzi è l'undicesimo miglior marcatore all time Come sempre faccio un riassunto sui numeri È l'undicesimo miglior marcatore all time della Juventus E nel corso di questa stagione raggiungerà quasi certamente l'ottavo posto Perché gli mancano solamente 9 gol se non sbaglio per arrivarci Quindi fino alla fine della stagione confido in lui che li farà E potrà arrivare all'ottavo posto all time Ma ha già superato giocatori comunque di calibro super Per quanto riguarda la Juve come Platini Per farvi capire Ti sta chiedendo circa 10 milioni alla stagione Da quello che si può cifrare Perché ognuno dice una cosa diversa Uno dice che Dybala non vuole rinnovare L'altro dice che è la Juve che sta aspettando Cioè fin dall'anno scorso si fa avanti di questa maniera Ti sta chiedendo comunque in genere Io credo che non ti abbia chiesto più di 10 milioni Sarebbero meno di quel che prende De Ligt E più di quel che prendono Rams e Rabiot Per me Dybala e De Ligt sono qui Non è che De Ligt sta qui e Dybala qui Questo è chiaro De Ligt è più giovane di Dybala Quindi di regola dovrebbe anche prendere di meno Ed è stato pagato anche meno di Dybala Quindi non capisco alcuni punti di vista Però comunque ti sta chiedendo di prendere meno di De Ligt Che ha da Juve da 4 anni in meno di Dybala Perché Dybala questo è il terzo anno Mentre per Dybala è il settimo E ti sta chiedendo di prendere qualcosina in più Di Rams e Rabiot Che giocano una partita ogni due Quando giocano giocano male Rams è un giocatore in uscita Ha soltanto rubato due anni e mezzo lo stipendio Quindi io non capisco perché si sta offrendo Sta cosa al ribasso Sempre se è vero questa cosa Perché io non Mi posso darsi pure che l'accordo già c'è Poi a febbraio ne ero su bianco Perché se ora si prende Vlaovic e si cede Dybala Abbiamo fatto un bel buco nell'acqua ragazzi Su questo siamo chiari Perché dietro Vlaovic Non ci puoi mettere Kuliseschi o Bernardeschi Con tutto il rispetto per questi due giocatori Si dice che Dybala Soprattutto in Champions Non abbia deciso dei match importanti Allora Dybala questo è il settimo anno alla Juventus Chiaramente nella fase a Gironi Ora non è che potesse fare assai Perché in quattro partite sui sei Se non erano non c'è stato per infortunio Quindi quelle partite che c'è stato Ti ha segnato tre gol in due partite con lo Zenit Quindi uno scandalo non lo vedo Ha fatto tre gol in due partite con lo Zenit Ha fatto anche un assist a Murata Quindi insomma Ha fatto il suo quest'anno in Champions Però i precedenti sei anni Ti aspetti che almeno un big match lo decida Perché ogni anno hai circa due big match In Champions League 2-3 Per big match parlo come Bayern Monaco United eccetera eccetera Allora con Lione non ha potuto fare niente Chiaramente perché Era infortunato Però ha deciso Juventus e Barcellona con una doppietta Juventus e Atletico Madrid Quando c'era Sarri Ha fatto il gol del 1-0 su punizione Una punizione magistrale Quindi con l'Atletico Madrid Manchester United di Juventus in sera 1 L'ha deciso Di Bala ragazzi In trasferta con il Manchester United Abbiamo vinto 0-1 Ha segnato Di Bala Siamo a tre big match Tottenham Juve Perché ti ha fatto il gol Che poi ti avrebbe qualificato Tottenham Juve 1-2 Con il gol di Di Bala Che poi ti ha portato la qualificazione Stagione 17-18 Juventus Bayern Monaco Stagione 11-16 Ha fatto il gol Che ha riaperto il match Quindi io non credo che Si debba molto Come posso dire Parlare negativo di Di Bala Perché il big match l'ha deciso Inoltre è stato protagonista Con una tripletta Allo Young Boys Nella stagione 18-19 Ed una doppietta Allo Sporting Lisbona Una doppietta Allo Sporting Lisbona ragazzi Quindi io non capisco Su cosa si basano Le critiche su Di Bala Perché ha fatto anche Svariati gol all'Inter Ne ha fatti 4 se non ero Ha fatto il gol in Coppa Italia Nella stagione 15-16 Ha fatto all'Inter Il gol con Sarri Ha fatto Con Sarri ha fatto Sia l'andata che il ritorno Con l'Inter di Bala E ha fatto il gol all'Inter Anche quest'anno su rigore Quindi Ripeto ragazzi Io non capisco Queste critiche ingiustificate Su Di Bala Ha fatto 6 gol In 8 partite in casa Al Milan Ha fatto doppietta al Napoli In Coppa Italia Quindi non lo so Io veramente Non capisco A cosa si diano Tutte queste critiche Per Paolo Di Bala Perché i numeri Sono assolutamente Dalla tua parte Anche perché Se poi non vuoi rinnovare Di Bala Prendi Vlaovic Perché dici Non hai soldi Di Bala Ti deve accettare Di prendere meno Perché è un periodo Complicato per la società E poi prende Vlaovic Vuol dire che i soldi Ce li ha Quindi non pensa Che lui vada in bancarotta Per un milione Due milioni in più Che da Di Bala Perché se da 7 milioni Tu lo rinnovi Che già non l'hai rinnovato L'anno scorso Quindi se tu lo rinnovavi L'anno scorso Di Bala Non lo capisco Gli altri parlano Bacendo la maglia Come Donnarumma Di Bala ha parlato Con i fatti Perché Di Bala Ragazzi ha rifiutato Manchester United Sì E Tottenham Li ha rifiutati Di Bala La Juve Era disposta A cedere Per prendere Lukaku Poi certo Ci sono anche Da animare Alcune critiche Alla società Perché la società Comunque nei confrateri Di Bala Gli ha dato La numero 10 E la fascia da capitano Perché una partita su due Ovvero quando manca Chiellini Il capitano è Di Bala E quindi Diciamo che Gli ha consegnato La fascia da capitano Futura Quindi dei riconoscimenti Da parte della Juve Per Di Bala Ci sono stati Ma un giocatore Voi pensate che nel tempo libero Magari si sta a fare le seghe Un giocatore Vede anche qualche commento Su Instagram E vedere un 30% Di riposo della Juve Che vuole Di Bala fuori Un 30% Un'elevata percentuale Secondo il punto di vista Di Bala La vede Perché sotto i suoi post Tutti gli dicono Bravo 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 Rimani 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 Ma sotto i post magari Di altre pagine C'è sempre Un 30-40% Di tifosi Che va contro Di Bala E sta sempre infortunato E così eccola Non capisco veramente Da dove vengono questi Io ho provato A riassumermi in numeri Il perché Di Bala Deve rimanere Anche se sono cose Che trovate in giro Molto per YouTube Italia Sono sempre Per contenuti Magari un po' controcorrenti Però ragazzi Il po' di Bala Deve rimanere Perché se metti Dentro Vlaovic E fuori Di Bala Hai fatto un bel buco Nell'acqua Cara Juventus Perché dietro Vlaovic Chi cazzo ci vuoi mettere Chi cazzo ci vuoi Mentre Con questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Speriamo che Di Bala Rimanga Se vi è piaciuto Il video Lasciate mi piace Se è contrario Dislike Commenta se siete d'accordo Se siete d'accordo Con me Se non è ancora fatto Iscriviti al canale In descrizione Il link Per sicuramente Su Instagram Da mano In support 07 E tutto E noi Ci vediamo In un prossimo video Magari Con il rinuovo di Di Bala Grazie a tutti